Il sistema del reddito di cittadinanza ancora una volta mostra tutti i suoi limiti. Nella cronaca nazionale non c'è giorno che passi senza un'inchiesta da parte di magistratura e forze dell'ordine organi di controllo che coinvolga soggetti accusati dell'illecita percezione dello stesso reddito che doveva essere invece interpretato come salvagente sociale per situazioni davvero critiche. Nelle ultime settimane le fiamme gialle del gruppo di Taranto, delle compagnie di Manduria Martina Franca e della tenenza di Castellaneta hanno scovato 20 furbetti che del reddito di cittadinanza non ne avevano proprio bisogno e i quali sono stati sequestrati ben 250 mila euro illecitamente percepiti. A queste conclusioni i finanzieri sono arrivati tramite specifiche analisi di rischio, l'esame delle risultanze delle banche dati che con l'ausilio del nucleo speciale spesa pubblica repressioni frodi comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e in collaborazione con l'Inps hanno individuato quelli che vengono definiti target specifici e così nella rete sono caduti 20 soggetti, tutti denunciati all'autorità giudiziaria i quali avrebbero attestato requisiti risultati falsi previsti dalla normativa che riguarda appunto il reddito di cittadinanza, oltre il danno anche la beffa perché i fondi destinati a chi davvero ne ha bisogno sono stati trafugati da persone senza scrupoli che comunque prima o poi vengono scovati, questa è l'amara consolazione come in questo caso dalla sempre vigile Guardia di Finanza.